Lunedì nero per il territorio del Bresciano, a meno di 24 ore di distanza dalla raffica di incidenti verificati Sina 21 nel tratto Torino-Piacenza, di cui un grave tamponamento tra un furgone ed un mezzo pesante all'altezza di Porzano nel comune di Leno, un'altra tragedia si è consumata nella bassa a Calvisano. Un anziano ha perso la vita travolto da un treno poco prima delle 19, lungo i binari della Brescia-Parma. L'uomo, residente nel paese, secondo le primissime ricostruzioni avrebbe attraversato i binari all'altezza del passaggio a livello, senza accorgersi dell'arrivo del treno. L'impatto è stato rivastante, tant'è che è morto sul colpo. Non solo incidenti stradali e ferroviari, a macchiare questo lunedì anche un grave infortunio sul lavoro a Cigole, dove un giovane 25enne è rimasto ferito in modo serio mentre era al lavoro su una caldaia. L'operaio, dipendente dell'azienda in via Manerbio, sarebbe stato travolto da un ingente quantitativo di materiale, secondo le prime ricostruzioni, ed è stato poi ritrasportato in codice rosso al civile di Brescia, con gravi traumi alla testa, al dorace e ad un braccio. Un secondo infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina, poco dopo le 9, a Lumezzani, in via Corfu. Coinvolto, un operaio di 40 anni, ancora da ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. L'uomo, dopo i primi soccorsi, è stato ritrasportato in codice giallo in ospedale. Sul posto, la TS di Brescia e i carabinieri di Gardone e Valtrompia, per i rilevi di legge. Infine, un altro grave incidente si è verificato anche nella mattinata di questo martedì 8 novembre, intorno alle 6, lungo la strada provinciale padana superiore all'altezza di Isso, in provincia di Bergamo. Trattasi di un frontale tra due auto con sei persone coinvolte, cinque viaggiavano su un'auto, mentre la sesta, quella che ha avuto le conseguenze più gravi, sull'altra. L'uomo è infatti rimasto incastrato nell'abitacolo. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco volontario di Romano di Lombardia, che con le pinze idrauliche hanno tagliato le lamiere e lo hanno estrato dall'auto. Il ferito è stato poi affidato alle cure mediche. Viste le gravi condizioni, è stato ritrasportato d'urgenza alla poliambulanza di Brescia. Per soccorrere anche gli altri feriti, sono intervenute quattro ambulanze e un'automedica. Sono tutti in codice giallo. La ricostruzione dell'esatta dinamica dei fatti è affidata ai carabinieri del comando provinciale di Bergamo.